Guardi, guardi, vedi questa, cos'è secondo lei? Ma questo è nuovo, ma che culo è uscita questa roba! Ma no, ma questo... Della parte a punta, della parte a un lato, ma è grosso un bel pomo, e Carlo che c'è non l'ha fatto, no, del genere! No, questa signora è il nuovo, diciamo, strumento per misurare il traffico, capito? Questa navicella? Certo, questa va in alto, praticamente, e da qui viene rilevato tutto quanto il traffico. Come fai? Vedi, si gira verso di noi, c'è il grande occhio, c'è un grande occhio qua, che ci osserva. Adesso è una cipolla, più buono, eh! Cambia, cambia così, e dice quante sono le macchine che girano per Fano, capito? E vende quelle, basta mezzo fermi al semaforo, le conti, fai presa! No, 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 ma cosa c'entra? Lei come fa dal semaforo a contare tutte le macchine, anche in tutta la città di Fano? Ehi, c'ho il bus e la porchetta al semaforo. E cosa fa? Ehi, mentre prima di vendere la porchetta, la conti. E dove insegna le macchine che passano? Sulla porchetta, se tu mi vede la cottica, è tutto un segno. Allora, va bene, consigliamo ai prossimi comuni, l'Utitalia, di non utilizzare questo sistema ma vecchio. Mai il busso con la porchetta, quindi vi consigliamo, cari sinistri d'Italia, usate il busso con la porchetta della signora Rosa, che funziona... Quanto costa la porchetta, signora? Eh, la porchetta, dipende. Se tu sei simpatico, commetto, da canca gratis la porchetta. Porchetta gratis. Porchetta gratis per tutti.